Un saluto amici, bentornati da queste parti da Guido Bagatta. Oggi parliamo di questo avvicinamento ai mondiali, ormai il Qatar è alle porte, un avvicinamento un po' curioso, mettiamola in questo modo, per tanti giocatori stranieri ovviamente che giocano nel nostro campionato e che saranno impegnati per il mese dei mondiali, almeno un paio di settimane per le qualificazioni e poi vedremo. Sono tanti, di nazioni anche più piccole, nazioni più grandi, per tutti questi se andiamo a vedere le presenze di questi giocatori tra infortuni, riposi, risentimenti muscolari e via dicendo, direi che le loro presenze si sono rarefatte da settembre a oggi. Ci sono ovviamente gli infortuni veri, ad esempio quello di Pogba che non si è operato, poi ha cambiato idea, tre o quattro volte sapete esattamente quello che è successo, il francese della Juventus perderà sicuramente il mondiale. Per lui il dubbio ovviamente non c'è, però per tanti altri ci sono un po' di punti di domanda. Tra questi quello che le squadre di calcio italiano di Serie A abbiano così sposato la causa, nel senso che abbiano in maniera silente, senza nulla di scandaloso, senza nulla tra l'altro di ufficiale, abbiano rallentato un po' l'utilizzo di alcuni giocatori, su richiesta dell'atleta stesso e magari su un accordo verbale o comunque su qualcosa che c'è stato con le federazioni che appunto gestiscono i giocatori stranieri nei club italiani. Vediamo giocatori che sono, magari anche senza essersi infortunati, quasi scomparsi dalle presenze in campionato, che giocano molto meno, Brozovic, tanto per dire all'Inter, che è riemerso dopo una lunga assenza. L'Inter ha anche il problema di Lukaku, è realmente infortunato, nel senso grosso il termine, oppure potrà recuperare, ha tentato di rientrare con l'Inter, si sarà fermato precauzionalmente per cercare poi di giocarsi le sue carte con il Belgio ai mondiali. Tutto questo ovviamente non lo sapremo, ma ripeto, non c'è assolutamente niente di male, è un po' fisiologico, ci sono anche gli argentini che giocano dalle nostre parti. L'Argentina è una nazionale che sta modificando tantissimo nella sua formazione, non solo per i titolari, anche per i panchinari. Pensate solo l'anno scorso il ciolito Simeone, chi avrebbe mai pensato potesse essere di interesse appunto per la nazionale ai mondiali dell'Argentina. E invece appunto Simeone è da quelle parti, potrebbe essere convocato Gonzales, tanto per dirne un altro della Fiorentina, anche lui potrebbe andare ai mondiali e anche lui ultimamente ha giocato molto meno. Ripeto, secondo me non c'è nulla di male, è tutto naturale, però a noi sta anche far rilevare un po' questo fenomeno. Lo stesso Vlaovic che vedete alle mie spalle, la Juventus lo sta utilizzando anche per il momento che ha vissuto la squadra bianconera, in modo diverso rispetto a quando era arrivato a gennaio dopo il calciomercato di riparazione. Insomma, è una situazione che comunque è destinata a finire fra qualche giorno con la pausa che inizia da lunedì prossimo, la lunga pausa che ci porterà fino alla finale dei mondiali del prossimo 18 dicembre. A domani.